A flusso con numeri da capogiro anche a capodanno per Napoli, tra le mete preferite dagli italiani e dai turisti stranieri europei e non solo. Il capoluogo campano registra un boom di turisti anche nelle ultime ore del 2023, stando ai dati previsionali dell'osservatorio turistico e tra le città più gettonate in assoluto. Le strutture ricettive per le notti del 31 dicembre e del 1 gennaio sono praticamente quasi al sold out. La scelta di trascorrere il capodanno ai piedi del Vesuvio secondo gli operatori del settore turistico avviene grazie ad un insieme di fattori, dal clima miti agli eventi in piazza fino ai prezzi accessibili rispetto alla media. Sentiamo i turisti che trascorreranno il capodanno in città. È già il terzo quarto ultimo dell'anno che facciamo qui a Napoli perché penso che è la città più bella del mondo. Perché non ero mai venuta a fare capodanno qui a Napoli e i botti sono molto belli, i fuochi d'artificio sono molto belli, mia madre non è molto contenta per il cane però secondo me è un spettacolo da vedere. Perché ha un'atmosfera particolare, ha un'atmosfera particolare perciò abbiamo ritenuto utile venire da queste parti. L'ultimo dell'anno qui a Napoli regalerà grandissime emozioni. Ci sono veramente tantissime cose da vedere, stiamo una settimana ma ci ritorneremo di nuovo perché non basta una settimana per vedere Napoli.